Uffa, è un'ingiustizia! Il mondo è così grande! Eppure non troviamo un posto in cui scappare! E se tornassimo ai tempi in cui non c'era ancora nessuno? Ciao amici! Sono tornato! Questa volta faremo un tuffo nel passato alla ricerca delle origini del mondo! Non vedo l'ora! Il mio nome è Kukuru. I miei genitori sono stati rapiti dalla tribù delle tenebre. Al loro fianco hanno un crudele alleato. Il malvagio sovrano degli spiriti. Non ti preoccupare! Noi abbiamo Doraemon! Preparatevi! Sarà un viaggio coi baffi! Nobita! Doraemon il film! Nobita e la nascita del Giappone! Tutti al cinema! Che sbaldo! Miau!